È liberissimo di baciare chiunque gli va. Non me ne può importare di meno. Se ero convinta che io e lui saremmo andati insieme alla festa di Lumacorno? Sì. Ora, date le circostanze, mi sono dovuta arrangiare diversamente. Suo serio? Sì. Perché? Beh, dato che noi due non ci possiamo andare con chi ci interessa davvero, potremmo andarci insieme, da amici. Perché non ci ho pensato io? Tu con chi ci vai? È una sorpresa. Comunque è a te che dobbiamo pensare. Non puoi portarci chiunque. Vedi quella ragazza laggiù? Quella era Omilda Vein. Pare che voglia rifilarti un filtro d'amore. Ah sì? Ehi, è interessata a te solo perché crede che tu sia il prescelto. Ma io sono il prescelto. Va bene, scusa. Scherzavo. Inviterò una che mi piace. Una figa. Una figa.